Per l'amministrazione comunale di Subbiano, un anno il 2022 che si chiude e un 2023 che sta arrivando. Prospettive di domani, ma anche un bilancio di questo anno che si chiude. Un 2022 che è stato caratterizzato da tante note negative, come in altronde tutti, anche gli anni precedenti. Questa amministrazione ha trovato tante difficoltà da dover superare, come è purtroppo la situazione corrente. Il 2022 però lo chiudiamo con un bilancio abbastanza positivo. Siamo riusciti, facendo anche le formichine dal punto di vista economico, a portare avanti dei piccoli progetti di riqualificazione che comunque nel nostro paese hanno fatto la differenza. Io sto pensando alla riqualificazione di via Arcipretura, che adesso andremo a concludere all'inizio dell'anno con un'asfaltatura nella parte non interessata dalla pavimentazione, che era oggetto del bando finanziato con i fondi del GAL. Sto pensando alla riqualificazione di via Salvemini, quindi con rifacimento della zona, di parcheggi e comunque limitrofi alla zona della piscina e al centro polivalente e allo stadio comunale, quindi diciamo anche di necessità per il paese. Sto pensando alle riqualificazioni anche nell'ambito di asfaltature come via Marconi, la piaggia, insomma dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria che abbiamo potuto sostenere. Per quanto riguarda poi l'illuminazione e l'efficientamento energetico, penso all'intervento che abbiamo concluso in tutto, il viale Martiri della Libertà, quindi hanno riqualificato il nostro viale, hanno reso più sicuro quindi anche diciamo nelle ore notturne il viale centrale del nostro paese. La cosa più importante è che siamo arrivati al termine dell'ampliamento della scuola elementare. Questo ci ha consentito a tutti i nostri ragazzi della scuola primaria di poter accedere quindi a un unico plesso scolastico garantendo anche dagli insegnanti, al personale docente, al personale ata della scuola di poter anche svolgere il proprio lavoro senza il disagio di una sede separata. Il 2023 parte quindi all'insegna anche della conclusione, dell'atto conclusivo della sistemazione della scuola quindi con la sistemazione delle sede scolastico grazie ad un finanziamento parziale comunque molto importante della Casa di Risparmio di Firenze con il bando Spazi Attivi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 55 mila euro che purtroppo però ci consente di poter intervenire soltanto diciamo nella prossima stagione. Un progetto molto importante per l'amministrazione anche a fronte diciamo di una necessità oggettiva che ci ha condizionato, che ha condizionato tutto il bilancio del 2022 perché questa amministrazione ha sostenuto delle spese per quanto riguarda l'illuminazione pubblica di un incremento di 200 mila euro rispetto all'anno precedente quindi è chiaramente necessario adesso un intervento di efficientamento dei corpi illuminanti quindi chiaramente interverremo principalmente e quasi esclusivamente sul corpo illuminante quindi la sostituzione delle lampade esistenti con lampade moderne a LED quindi che ci permetteranno e ci consentiranno di risparmiare. Questo è l'obiettivo che ha spinto l'amministrazione anche in maniera diciamo importante a concludere il bilancio di previsione del 2023 l'abbiamo già portato in approvazione nella giunta comunale ora lo porteremo proprio all'inizio dell'anno entro il mese di gennaio all'approvazione del consiglio comunale quindi è fondamentale chiaramente avere un bilancio di previsione proprio che ci possa permettere di partire subito con degli interventi che sono assolutamente importanti. sempre frutto dei risparmi economici del 2022 saranno anche l'intervento di asfaltature nella zona di Ponte Caliano quindi principalmente il borgo di sotto e inizieremo così insomma questa manutenzione ordinaria per quanto riguarda le asfaltature. Una cosa che è nata nel 2022 e proseguirà quindi avrà diciamo le fasi più importanti di esecuzione nel 2023 è il progetto della sistemazione del circolo di Calbenzano quindi abbiamo partecipato al bando del GAL abbiamo ottenuto un finanziamento di 150.000 euro nel 2022 e adesso metteremo in atto insomma tutto quello che abbiamo già dato l'incarico per la progettazione esecutiva per cercare di riattivare in maniera insomma più sicura più efficace e efficiente anche il circolo di Calbenzano per la ripartenza per un anno nuovo insomma ci sono delle prospettive importanti che chiaramente vedono insomma un impegno molto grosso da parte dell'amministrazione soprattutto l'impegno più imponente è diciamo il progetto della realizzazione del terzo campo da tennis e degli spogliatoi per diciamo dare vita finalmente ad un circolo del tennis come deve essere Subbiano ha nella sua storia diciamo tanti tennisti che per diletto, per passione insomma si sono divertiti nella piazza centrale del nostro paese hanno dato vita insomma a serate piacevoli, divertenti con il torneo delle torri insomma la storia del tennis a Subbiano è una storia diciamo importante quindi questo circolo è stato sicuramente pensato anche da chi ci ha preceduto in amministrazioni precedenti e vogliamo dargli quindi un seguito e una realizzazione finale è un impegno molto importante perché come dicevo inizialmente i costi dei materiali sono assolutamente lievitati in maniera esponenziale e quindi chiaramente l'amministrazione attuale deve fare i conti con delle criticità che purtroppo ricadono sull'amministrazione ma sulla cittadinanza in generale i lavori insomma adesso partirà la gara per l'affidamento dei lavori e si spera insomma che si realizzino prima possibile per l'affidamento dei lavori insomma